Partita magari amministrandola, magari ascoltando le notizie che ci arrivano da Giuseppe Bisantis Da San Siu, per Inter Sampdoria, break di Fernandez C'è Leao di fronte a sé, lo serve, è partito Leao di fronte a sé, frattesi Si ferma, sovrapposizione di Fernandez, premiata dal fondo il 19 in cross, frattesi Il take è incivolato, gli mette palla sul fondo e quindi in corner quando tirano la batteria per il Milan Senza soluzioni di continuità, la spinta offensiva della formazione allenata da Stefano Pioni Che potrà cercare di sfruttare ancora, un'azione su palla inattiva Con Tehernandez da sinistra e terra al piede sinistro, torretore d'uscita rispetto alla porta difesa Consigli che da istruzioni, premiato per gli esporti, si dice che Roberti la rincorsa Da parte di Tehernandez, le mani sui fianchi, la chieda menina di rigore e la crossa che parte adesso consigli Ancora una volta senza problemi, qualche mellone, le tifosi al Milan, il ministro, nel loro terzino della francese Come a dire, cerca di sfruttare la piacenza, mette questa palla sul taroso Perché sempre, trovo sul portiere, consigli molto attenti, per la seconda volta Consigli attiva riesce a bloccare il presagno Ci prova, divasta il suo lontore, in equestanzione di allagere Che trova la propone, trigette, insomma, che ha aperto il settore di destra Dove si trova un lontore, avviene in controfattesi, dice mille pallone Lui nella mediana della Milana, si può, si lo pensa, c'è due, c'entrae Nel terreno di gioco, scambia con Enrique, poi in Verardi Venuto anche il dice, guardate a cercare palloni giocabili All'interno della mediana, non si chiama il settore di sinistra Buona volta, chi li apposta, si dice ventolore Prova la città, lo sento, l'elettro, il terreno, per la pressione di Calabria C'è in manovra, ora, in costruzione Offensiva in lasso suono, con i mezzi in offensi Il numero 8 si ferma, buona le sue spalle a Yann Oltiere il pallone, il numero 5, prova a sconchiare il pallone La formazione di Yann, cercando di rompere dentro del mille Si ritornano nelle forze di sinistra, adesso provano a accelerare Il numero 17, Yann, su di lui, se ne va Leo, in elettrico, Leo, si muove in giro, un pallone, verso la girata Il numero 17, nel corso del primo tempo